Questo dovrebbe essere riciclato dalle acque bianche, acque piovane che vengono qua curato proprio alla perfezione sempre pulito pulito pulite cosi vedi come sta speciale addirittura ci stanno degli splendidi pichi d'india con le spine questo è questo è il costo è ecco come sta oltre un milione di euro per fare la depurazione delle acque della fogna bianca praticamente queste le vasche di decantazione che ovviamente cresce l'erba ecco ecco come si sprecano i soldi e come non danno i servizi indispensabili perché poi questo vedi quella pompa di sollevamento comunque vedi come sta in ordine è bello che tutto perfetto la spazzatura sta tutto e questi vogliono fare che cos'è che devono fare devono fare la riunione per per la fogna bianca altri finanziamenti mettessero a posto questo questa mettessero a posto chi si è fregato questi soldi capito chi si è fregato questi soldi non funziona non funziona perché se funziona perché non la puliscono vedi stanno i vetri dalla spazzatura chissà se è venuto qualcuno ad aprire questo è un cancello no vedi allora questo è un cancello stanno le rose le spine delle rose della madonna dell'alto mare la madonna naturalmente questo per vedere anche perché dicono che dovrebbero fare adesso un altro finanziamento voglio vedere i soldi dove li devono trovare per per ma voglio siccome io perché aggasse noi e appunto questo è il posto questo è già questo è il posto è capito sì 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 ma è chiaro per per capire da che condizioni poi c'è passato il dolore vedi come sta vedi vedi mi fate schifo avete parlato pure mi vergogno che non ho avuto il coraggio di scrivere ladri 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 questa è la cosa l'ingresso di mola sta la cosa sta qua sta qua sta qua sta qua sta qua perché una persona quando esce da questa strada non vede non c'è la visione occupata dall'erba dall'erbaccio allora si deve fare avanti con la macchina per poter vedere se viene o non viene però può succedere l'incidente pure è certo però nessuno se ne frega niente però io non penso hai visto la qua se c'è questo è tutto un abbandono